Una storia forte, appassionante, che ha tenuto i ragazzi inchiodati alle sedi e al religioso silenzio ad ascoltare, pensando fosse vera. Poi, alla fine, la verità. Era un monologo recitato con passione da un attore professionista, che però è servito a far riflettere i ragazzi sulla spirale che porta alla violenza di genere e quindi a epiloghi drammatici. Una mattinata diversa dal solito, organizzata dalla consulta degli studenti e dalla questura di Vibolenza, per avvicinarsi alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Abbiamo voluto scegliere un codice di linguaggio che i ragazzi potessero recepire con consapevolezza e la sala silenziosa e attenta allo testimonia. Bisogna entrare nelle loro corde affinché possano riflettere su temi che sono così discottante attualità, terrificante attualità, che però noi vogliamo poi volgere anche in una chiave positiva di lettura per far passare il messaggio che la vita ci può riservare delle sorprese durante tutto il suo percorso, belle, brutte, ma comunque bisogna avere la forza di reagire. E quindi anche da un'esperienza così traumatica, che sia trasversale, che sia diretta, bisogna raccogliere poi le forze per andare avanti e per dare il proprio contributo alla società. Quindi noi oggi vogliamo far sì che loro pensino, meditino, non virtualmente, ma realmente tra di loro. Alla fine della performance si attiverà questo laboratorio tra di loro in cui esporranno i propri pensieri, le proprie emozioni, le proprie testimonianze, condividendole e trasferendole anche agli studenti che non sono presenti qui oggi. Ecco perché è la consulta che lo propone qui presente in toto e che si farà portavoce ognuna presso il proprio istituto di appartenenza. Noi abbiamo già sperimentato in altri ambienti, a Roma, a Milano, a Torino, a Firenze, pure negli anni passati, questo metodo di comunicazione con l'attore che è appunto Alberto Micelotta, che è riuscito anche in ambienti grandissimi come la Fiera di Roma a creare questa stessa atmosfera di partecipazione e questo ci ha fatto capire che è il modo più giusto per comunicare. Sappiamo che i ragazzi sono presi dal mondo delle immagini, del racconto, anche in un certo senso perversalmente violento e quindi ciò li induce, mentre lui racconta, a credere che la storia sia quella che sta raccontando e che è effettivamente ispirata ad un fatto reale, ma non è ovviamente il suo fatto reale, non è la sua vita, ma loro ci credono e quindi alla fine poi sarà bellissimo ascoltare quello che loro, senza filtri e senza veli, chiederanno, trasferiranno, convinti di avere di fronte un vero femminicida. Ed è questa la chiave vincente, ovvero il fatto che loro in questo momento si stanno concentrando su una situazione che pensano reale e non solo un fatto di cronaca che possono avere sentito in televisione, ma qui presente, vicino a loro, questo li induce a scavare nel loro profondo e ad esprimersi. E questo è andato così bene anche, ripeto, in ambienti dove noi non ce lo aspettavamo, in città molto grandi, con studenti numerosissimi, che poi si sono tutti raccolti e concentrati intorno a noi per assistere alla performance. Non poteva mancare a Vibo Valencia.